Mi chiamo Francesca, ho 40 anni, vengo da un paesino del Veneto chiamato Montebelluna ed è da 11 anni che vivo qui in Messico, a Tulumna. Sono arrivata qui non sapendo assolutamente qual era il destino della mia vita. Io ho studiato turismo, quindi all'inizio ho fatto da manager in qualche hotel. E poi un giorno, un po' per caso, per gioco, per diversione, ho iniziato con un'amica a vendere dei vestitini. E adesso ho tre boutique, quindi sì, adesso sono più nel campo della moda. Come sono arrivata a Tulumna? Un giorno decisi con il mio ex fidanzato di fare un viaggio in moto per il mondo. L'idea era di fare il giro del mondo in moto. Siamo arrivati in inverno a Vancouver e da lì aspettavamo l'estate per andare in Alaska. Purtroppo le cose tra noi due non sono andate così tanto bene, quindi mi sono ritrovata con un casco, un paio di stivali da moto, non sapendo cosa fare della mia vita. Quella stessa sera mi arriva una mail da una signora che ha un hotel qui a Tulum che aveva visto il mio curriculum, non sappiamo ancora dove, e mi aveva chiesto se ero interessata a lavorare a Tulum. Io ho guardato su internet la spiaggia e in dieci minuti credo che gli ho risposto, gli ho detto quando aveva bisogno di me e ho preso il primo volo e sono arrivata a Tulum. Ho deciso di fermarmi qui in Messico dopo due anni di dubbio se tornare o non tornare quando ho visto che c'era un'opportunità per i ragazzi giovani come me, in quel tempo avevo trent'anni, di fare qualcosa improprio. Vedevo che le ragazze avevano bisogno di vestiti larghi, di vestiti molto ampli per il discorso del caldo, però allo stesso tempo un po' con la spalla bassa. Ho cercato, diciamo, di dargli un tocco di taglia a qualche vestito che poteva essere giusto per Tulum. Ho iniziato a vendere questi vestiti e piano piano questo concetto che prima era un po' un sogno o un gioco, se realizzato come un lavoro. Il fatto di essere italiana ha contribuito un sacco, molto, nel mio successo dei negozi. Io mi ricordo all'inizio, specialmente all'inizio, mi ricordo che gli stessi clienti, Demi Moore, Michelle Pfeiffer, tutti venivano giusto perché «Ah, italiana, francesca, simpatica, da col sorriso». Il mio futuro prossimo da qui a 5-6 anni lo vedo qui a Tulum. Ora sto aspettando un bambino, quindi non vedo l'ora di crescere il mio bimbo in spiaggia. Probabilmente fra dieci anni, quando Tulum sarà molto più saturata, probabilmente cercherò nuove nette.